Quando è stata l'ultima volta che avete provato a fare delle campagne sui social parlo soprattutto a chi non è specialista, chi non è freelance digital in senso stretto e avete provato a fare delle campagne al di là del semplice raccogliere un po' di copertura e interazioni riuscire a ottenere dei risultati effettivi quanto può essere difficile se uno non sa come orientarsi. In questo talk cerco di dare un piccolo consiglio per uno specifico tipo di campagna che è una campagna di lead generation, cioè una campagna di generazione di contatti di valore lavorativi per tutti i freelance, però una campagna che ci mantiene dentro le piattaforme in questo caso parlo soprattutto di Facebook e di Instagram, però vale anche per LinkedIn anche se è decisamente più costoso. Questo tipo di campagne secondo me sono molto adatte per i freelance per una serie di motivi. Allora, fare da sé è difficile, dicevamo, nel senso che riuscire a orientarsi in tutte queste funzionalità, per chi non è specialista, quando uno si approccia al Facebook Business Manager vede una serie di, un'interfaccia sempre più complessa, una serie di funzionalità sempre aggiuntive, cose nuove è molto difficile anche solo saper selezionare il tipo di campagna che può fare al caso nostro è una skill anche quella. Di conseguenza, questo tenendo conto appunto dell'interfaccia giusta per fare le campagne che è appunto questa qui del Facebook Business Manager. Perché appunto noi sappiamo che i classici promuovi e metti in evidenza questo post che ci sbucano sotto i nostri post sui social sono comunque delle modalità semplicemente per dare un po' di forza distributiva, ma nulla che ci porti davvero risultati dal punto di vista business. Ecco. In più, fare da sé è difficile, ma è diventato ancora più complicato quest'anno dopo tutte le limitazioni che hanno portato gli aggiornamenti iOS, mondo Apple, che ci impedisce di fare tranquillamente i tracciamenti sul nostro sito e anche questo aspetto è diventato più specialistico per cui appunto come fa un freelance a orientarsi? Secondo me questo tipo di campagna, la campagna che Facebook chiama Lead Ads, campagna di generazione di contatti, è un buon modo di muoversi e vi farò vedere qualche esempio perché è innanzitutto una campagna che non ci porta fuori dalla piattaforma. Di conseguenza non ci dobbiamo impegnare troppo in questo aspetto super specialistico, diciamo, dei tracciamenti e è fatto apposta perché elimini qualunque tipo di frizione lato utente, nel senso che funziona in questo modo noi interagiamo con un certo post, si apre questo pop-up con un modulo di contatto, spesso appunto in parte precompilato con i dati che noi abbiamo lasciato alla piattaforma ed è con tempi di caricamento quasi istantanei. Di conseguenza è una modalità estremamente semplice per l'utente per poter lasciare i contatti a noi che glieli chiediamo, insomma. Quindi in questo panorama di semplicità è secondo me la campagna che ogni freelance che ha un pochino di dimestichezza, che ha già provato a fare qualche campagna magari seguendo qualche tutorial su come creare campagna, gruppo di inserzioni, può provare a fare perché appunto non c'è bisogno di troppi aspetti specialistici. Ora se vi faccio vedere con un modo un po' artigianale, ma speriamo funzioni, qualche esempio. Se aprite il telefono e guardate a questo link che è bit.ly slash freelancecamp21. C'è qualche esempio perché ovviamente non posso parlare di questo tipo di campagne senza farvi vedere qualcosa. dato un occhio però poi seguite. Comunque sono campagne secondo me sono campagne che sono molto adatte per due tipologie di settori o di momenti diciamo del percorso di conversione. Da un lato per tutti coloro che stanno cercando di ampliare una mailing list, quindi una fase abbastanza precoce nel nostro percorso di conversione dell'utente per quei business, per quelle attività che hanno un respiro dei mercati nazionali se non addirittura internazionali e questo tipo di campagna è molto buono per raccogliere contatti appunto, è per questo che sono state pensate. Negli esempi che vedete c'è per esempio il caso di una travel designer che ci ha chiesto una mano in fase di post pandemia per crearci una mailing list locale, poi c'è un caso di un'azienda che fa batteria al litro per macchinari industriali, cioè cose anche molto specifiche B2B e un'altra che lavora nella filiera della moda. Sono accomunate dal fatto che ovviamente la richiesta di contatto è condizionata dal restituire comunque la famosa guida da scaricare, il famoso lead magnet, però chi e molti di voi so che già sono predisposti da questo punto di vista, chi ha già una sua guida da far scaricare, chi ha qualcosa da dare in cambio effettivamente può provare a fare questa campagna da solo, secondo me è molto molto semplice, è chiaro l'ideale poi è creare delle automazioni lato MailChimp, MailMarketing, Zapier, ma questo insomma è un altro passaggio, si può fare anche manualmente. Questo è quindi un caso in cui secondo me è sensato usare questo tipo di campagna lead ads. L'altro caso è semplicemente se siamo un business locale e stiamo cercando, per esempio siamo un fotografo, un videomaker che ha uno studio e cerca clienti molto vicini alla sua cerchia, nella sua area, è anche possibile andare direttamente a lavorare in ottica commerciale, anche se semplicemente richiedendo un contatto, visto che il percorso di conversione è tendenzialmente più breve, questo tipo di campagna ma almeno dalla mia esperienza dà molte soddisfazioni a chi prova a lavorare su un piano locale. L'ultimo esempio che vedete nel PDF è di un'azienda che produce infissi nel museo fiorentino e che ha cercato di disintermediare con successo il contatto con i clienti. Ovviamente questo tipo di campagne in entrambi i casi non è da considerarsi sufficiente, nel senso ovviamente si tratta di un piccolo strumento, però è uno strumento che intanto si può imparare a fare da soli, secondo me, e poi coniugato o ad un'attività commerciale diretta come nel caso dei business locali, oppure con un po' di lavoro di mail marketing, può essere sufficiente a garantirci comunque delle conversioni vere e proprie. Da un lato, poi, secondo me è particolarmente adatto per i freelance, perché andiamo a prevedere l'impiego di budget vivo o vero solamente in una fase di raccolta contatti, magari anche iniziale nel nostro percorso, il famoso funnel di conversione con gli utenti, ma poi il resto delle fasi di contatto ci chiamo di farle con piattaforme o piattaforme di mail marketing, che quindi hanno un costo fisso e non impiegano altro budget, o addirittura appunto alzando il telefono, per cui sì, c'è un impiego poi ovviamente di risorse, di tempo da parte nostra, però non abbiamo più una spesa, quindi è una cosa tendenzialmente sostenibile e in qualche modo, anche se è contrario poi a tutto quello che ci dice Facebook che predilige campagne sempre accese, però è anche una campagna che una volta che uno l'ha impostata secondo me è tranquillamente, si può tranquillamente accendere e spegnere sulla base del bisogno, cioè se abbiamo bisogno di portare una ventata d'aria fresca nei nostri contatti di una newsletter o di una mailing list che fa fatica a crescere organicamente, questo tipo di campagna ci porta, può dare un pochino di nuova benzina, così come se abbiamo un parco clienti un po' stantio e abbiamo voglia di creare un po' di turnover, accendere questa campagna per un paio di settimane con almeno un 10 euro al giorno, se è una cosa locale, più o meno questi sono dati i prezzi oggi del costo di copertura di Facebook, secondo me questo è il minimo che è necessario, però con appunto un 150 euro in due settimane può essere necessario già per avere dei lead su cui andare a lavorare quindi diciamo carne sul fuoco che ci può servire. Vi ho lasciato appunto, vi do questo pdf giusto per prendere un po' spunto, in fondo c'è qualche screenshot per orientarsi nell'interfaccia di quando si va a creare la campagna, appunto nel gestione e inserzioni del nostro business manager, un'indicazione di massima, ovviamente se lavoriamo in un'ottica più strettamente commerciale per farci dare un contatto con un obiettivo quindi di vendita quello che consiglio, quello che un po' ho testato è quella di cercare di scrivere dei coppi lunghi che possano in qualche modo ovviamente proporci nella nostra proposta di valore ma anche intercettare le possibili obiezioni e punti di vista dell'utente e cercare di essere quindi molto esaustivi nel momento in cui facciamo campagne orientate alla vendita. Ovviamente se facciamo campagne e inserzioni orientate a obiettivi più intermedi come la raccolta del contatto per la newsletter possiamo solamente concentrarci sull'aspetto di valore che diamo con la nostra guida con il nostro lead magnet. Questo è quanto, se c'è qualche domanda e se abbiamo tempo altrimenti grazie.